Amonì è un evento unico in Sicilia, lo possiamo dire con legittimo orgoglio, un incontro tra l'eccellenza della produzione siciliana con buyer nazionali e internazionali. Nazionali grazie alla presenza della grande distribuzione Conad, Coop e Deco, internazionali grazie alla presenza di Flora Fine Food America, da Tridge Sud Corea, da buyer della grande distribuzione tedesca e francese, svizzera. Quindi è un evento veramente importante che finalmente potrà dare grandissima dignità e soprattutto visibilità ai tanti produttori siciliani che producono eccellenze e che sono riconosciuti grazie al loro brand in tutto il mondo. Si cavalca la domanda e l'offerta perché quest'ambito è sempre in continua evoluzione? È in continua evoluzione e bisogna che la politica capisca che il Made in Sicily è un marchio, un brand veramente importante. Il gusto, l'eccellenza siciliana viene riconosciuto in tutto il mondo e quindi la politica ha il dovere di promuoverla in maniera seria e concreta. Diamo le date. 1, 2 e 3 settembre, già oggi sono pronti al montaggio degli stand, stiamo montando anche il Luna Park che sarà nella zona camposportivo. L'1 settembre alle 17.30 ci sarà l'inaugurazione della fiera, poi ci sarà Radio 105 con Pippo Palmieri, il 2 settembre avremo invece i The Colors e il 3 settembre i Santi Francesi. Ci sarà la presenza dello street food, ci sarà la presenza dello show cooking, ci sono tante manifestazioni all'interno della manifestazione stessa. Saranno tre giorni importanti non solo per Torrenova ma per tutto il territorio per avere la possibilità di vedere un evento, come ripeto, unico in Sicilia.